Musica Ben ritrovati in studio speciale amministrative 2017, Oristano al ballottaggio, il prossimo 25 giugno si conoscerà Il nome del nuovo sindaco della città di Eleonora, la sfida si gioca tra Andrea Luzzo, capo di una coalizione di centrodestra e Maria Ovino, capo della coalizione di centrosinistra civico-sardista E' tra loro che si giocano questi ultimi giorni di campagna elettorale Noi però abbiamo pensato di conoscere meglio anche i rappresentanti delle liste che hanno sostenuto in tutto questo periodo i due candidati alla carica di sindaco E allora avremo ospiti in studio appunto i rappresentanti delle liste ai quali porremo tre domande Iniziamo con Stefano Spada, espressione della lista civica valore comune, ben trovato Stefano Buongiorno Marianna A capo della coalizione di centrosinistra abbiamo detto Maria Ovino Il vostro sostegno all'eventuale governo quale sarebbe? Il nostro sostegno è totale Abbiamo iniziato un dialogo che ha portato questo progetto fino a questo punto Siamo fieri di essere arrivati fin qui Sosteniamo Maria perché fin dall'inizio ci ha dimostrato di avere il carattere giusto e le capacità Oltre che una discreta esperienza per poter guidare la città nei prossimi anni per il rilancio economico, turistico, culturale e sociale Il nostro contributo sarà un contributo in termini di competenze, di energia nuova, di entusiasmo E soprattutto una visione più globale di quella che è lo sviluppo di una città, di una cittadina piccola come Oristano Che però può avere un ruolo determinante per il rilancio di tutta l'area vasta Perché Oristano deve riprendere il ruolo guida Deve riprendere il ruolo guida per governare tutto il territorio verso un rilancio economico Che possa in qualche modo dare delle prospettive di crescita alle nuove generazioni Prospettive di sviluppo, prospettive occupazionali che purtroppo in questi ultimi anni sono state totalmente carenti Quindi noi abbiamo il bisogno di dare delle risposte alla popolazione Noi puntiamo sui giovani e vogliamo puntare in particolar modo sul livello occupazionale da sviluppare proprio in questi anni Ci vogliamo impegnare con il turismo e con la cultura Ma non solo, con le piccole e medie imprese, con l'enogastronomia Con la nostra cultura che deve ritornare ad essere una guida E soprattutto può anche destagionalizzare quello che è uno sviluppo turistico Che può garantire lavoro alle nuove generazioni La città ha bisogno di crescere, ha bisogno di guardare e di aprire gli orizzonti Verso le altre città che abbiamo anche in Sardegna ma non solo Io ho proposto di creare un gemellaggio con un bel esempio come una città come Mantova Che ha fatto della cultura e del turismo Veramente il pilastro dello sviluppo economico della città dei Gonzaga Quindi noi abbiamo bisogno di confronti, abbiamo bisogno di vedere come funzionano altre realtà Non solo isolane ma anche italiane e europee Oristano non può rimanere sempre ultima, non può rincorrere gli altri Oristano deve diventare un esempio di sviluppo sostenibile, credibile Per le generazioni attuali ma anche per quelle che verranno dopo A proposito di turismo, per lavoro hai viaggiato molto, ricordiamo hai lavorato per Meridiana per tanti anni Puoi avere quindi il polso della situazione, che cosa i turisti si aspettano dalla nostra città? Io lavoro ancora per Meridiana, da 21 anni sono assistente di volo e proprio questa mia formazione Mi ha consentito di vedere come funziona il mondo E bisogna avere il coraggio di guardare Oristano fuori dalle mura giudicali Perché se no noi non andiamo più avanti Ci siamo arresi in questi anni, non abbiamo mai deciso di puntare sul turismo Noi punteremo sul turismo Abbiamo già iniziato con un dialogo molto produttivo col Consorzio Industriale Che diventerà sede del gas naturale liquido Che è il carburante necessario per le navi da crociera Noi vogliamo puntare sul turismo croceristico Vogliamo puntare su Torre Grande, sul restyling, sullo sviluppo del porticciolo Mandare avanti il progetto della Ivi petrolifera Mandare avanti i progetti di Oristano Est Che sono per l'economia del territorio determinanti Per il rilancio proprio dei livelli occupazionali Vogliamo puntare sulla cultura Vogliamo creare il nostro centro storico Deve diventare una bomboniera Deve essere accogliente, ma deve essere aperto al turista Noi non possiamo far arrivare i turisti nel centro storico Ma non offriamo loro nulla Dobbiamo aprire monumenti Vogliamo intraprendere un dialogo con la Curia Per creare una sinergia Per fare in modo che i nostri monumenti siano visitabili Perché andiamo a Firenze e saliamo nel campanile di Giotto Paghiamo 8 euro e nel campanile di Oristano non si può salire Ma perché? Perché non possiamo vedere la torre di Mariano II E a Cagliari paghi 3 euro e sali nella torre dell'elefante Noi dobbiamo dare ai turisti qualcosa da fare, da vedere Ma allo stesso tempo dobbiamo garantire a chi opera nel centro storico Le prospettive di lavoro e di crescita Ultimo spazio, l'appello al voto Perché votare Maria Ovino? Maria è una persona eccezionale Ha dimostrato in questi sei mesi di campagna elettorale Grande amore per la città, competenza e voglia di crescere Se voi scegliete Maria non sceglierete solo Maria Ma scegliete una squadra giovane di cui noi facciamo parte Con competenze, entusiasmo e voglia di vedere una città più bella Più pulita, più accogliente Scegliete Maria e avrete un rilancio della città Creato da una squadra competente E che vi dia delle garanzie di crescita, di sviluppo Per i nostri figli e per le generazioni future Grazie Stefano Spada Nuovamente in studio, questa volta in mia compagnia c'è Massimiliano Sanna Buongiorno Buongiorno a voi Della lista di Forza Paris Peraltro il più votato in lista Il secondo in assoluto in questa competizione elettorale Intanto partiamo dal partito Quale contributo Forza Paris può dare all'interno della coalizione In un eventuale governo di centrodestra? Allora Forza Paris è un partito che già dall'inizio Ha sostenuto Andrea Luzzo e la coalizione Perché portava in sé comunque elementi identitari molto importanti Che contraddistinguono appunto il nostro partito Che più che un partito lo definirei una lista civica Che appunto si è presentata a queste elezioni Proprio per far riemergere questo aspetto dell'identità E noi appunto come caratteristica principale Abbiamo sempre posto come elemento importante Quello del confronto con i cittadini Che ha sposato immediatamente il nostro candidato a sindaco E tutta la coalizione Confronto che è un perno fondamentale Per la crescita della nostra città I cittadini hanno bisogno di essere ascoltati Hanno bisogno di risposte concrete Che noi naturalmente possiamo dare E possiamo dare come? Appunto confrontandoci con loro E trovando appunto delle soluzioni Con i cittadini di Udistano Questa è fondamentale Questa azione naturalmente Poi la porteremo avanti Con il massimo impegno Con la massima dedizione Perché siamo certi che Noi possiamo dare quel contributo importante Che la città necessita Abbiamo gli elementi che possono fare questo Certamente il nostro sindaco È un sindaco preparato Un sindaco che ha dimostrato Anche in passato Di avere tutte le qualità Per poter dare una mano a questa città E siamo sicuri che Con il confronto con i cittadini L'ascolto dei cittadini E portando a compimento Delle incompiute che ci sono E le necessità Che sono tante di questa città Da risolvere Tanti problemi da risolvere Io penso che riusciremo a farlo Capitolo cultura Ora non vi è dubbio Oristano ha tantissimo da offrire Tanti monumenti Tanti gioielli Che vengono riscoperti In maniera particolare Nel corso di monumenti aperti Come si può estendere A tutto l'anno Questa ricchezza? Allora sì Monumenti aperti È un momento importante Per la nostra città Supportato naturalmente Soprattutto dalle scuole Ma quello che a me Appreme sottolineare Soprattutto in questo settore Che penso che sia propulsivo Per una crescita economica Della città Perché la cultura È fondamento Per la crescita economica Di una società E che abbiamo tanti monumenti Purtroppo Che sono ancora chiusi Lei ha parlato appunto Di monumenti aperti Il monumento più importante È la nostra città Che è la Torre di Mariano È chiusa È chiusa da quattro anni Io in consiglio comunale Nella mia esperienza In minoranza Ho più di una volta Chiesto Con interpellanze E emozioni Di riaprire quel monumento Perché è fondamentale È il simbolo Della nostra città Ma anche la Torre di Portigetta Con piccoli interventi Sicuramente si potrebbe riaprire E rendere fruibile Io penso che monumenti aperti Come ha detto lei Sia un momento da realizzare Più volte nell'anno Perché la nostra città Che è una città storica Una città appunto Che potrebbe dare tantissimo Da questo punto di vista A punto di vista culturale Ha necessità appunto Di un intervento serio Di una particolare attenzione Io vorrei citare però Come a parte monumenti aperti Anche il teatro Che è un'altra importante Struttura Che purtroppo al momento Non è disponibile Ed è importante Perché all'interno Di quella struttura Si potrebbe fare cultura E questo è importante Chiudiamo con l'appello al voto Perché votare Andrea Luzzo? Allora perché Non vogliamo cambiare Il modo di fare politica Io penso che la politica Deve essere confronto La politica Deve essere ascolto La politica deve essere concretezza E noi penso che possiamo appunto Fare tutto questo Ed è importante farlo appunto Col confronto Come già detto E portando avanti E elementi Valori importanti Che sono appunto Quelli dell'umiltà Dell'onestà Del voler fare Concretamente E soprattutto ripeto L'elemento che ci contraddistingue Che contraddistingue Il nostro sindaco Che è quello appunto Dell'umiltà Essere disposti sempre A fare un passo indietro Per venire incontro Appunto all'esigenza E le necessità Della nostra città E dei nostri cittadini Grazie Massimiliano Sanna Grazie a voi Gentilissimi Ospite mia compagnia In questo momento Francesco Cabras Del Partito Socialista Italiano Benvenuto innanzitutto Grazie A sostegno Del candidato sindaco Maria Ovino Della coalizione di centrosinistra Civica e Sardista Intanto Il Partito Socialista Quale contributo Potrebbe dare Nel caso di un governo Guidato da Maria Ovino Il primo contributo È il fatto di essere presenti Perché è da tempo Che il Partito Socialista Non era presente In una coalizione Di amministrazione Il nostro contributo È sostanzialmente legato Dalla nostra tradizione Un contributo Di rispetto Di attenzione Per le fasce Più deboli E di una prospettiva Per il futuro Uno sguardo rivolto Al futuro Per quanto riguarda Noi riteniamo Ci siamo ripresentati Perché riteniamo Che attualmente Ci sia molto bisogno Di socialismo Socialismo Soprattutto intendendo Per il socialismo La valorizzazione Del lavoro Produttivo Quindi Noi intendiamo Sostenere La produttività Attraverso Il sostegno Alle imprese Attraverso Le imprese Desideriamo Fare in modo Che arrivino In città Delle risorse finanziarie Perché arrivino Risorse finanziarie Riteniamo Sia necessario Dotarsi Di un ufficio Di piano Che sia pronto A disporre Di progetti In modo da poter Attingere Alle risorse finanziarie Sia a livello regionale A livello nazionale Anche a livello europeo Ha parlato di uno sguardo Rivolto al futuro Se dovesse immaginare Oristano Tra cinque anni Al termine Della prossima legislatura Come la vede? Tra cinque anni Vorrei Vedrei una città Vorrei Porre le basi Per una città Perfettamente integrata Con le frazioni Con i paesi Dei dintorni E soprattutto Con tutto il territorio Naturalmente Porre le basi Per ottenere Questo risultato Vuol dire Fare dei collegamenti Fare degli assi viari Fare delle Utilizzare al meglio Questo fiume Che è il più grande Il più importante Della Sardegna Far diventare Insomma La città Prospettata Per il futuro Anche una risorsa Finanziaria Economica Sono convinto Che Se avessi Se porremmo le basi Per questa cosa Potremmo Avere lavoro Per molto tempo Avrei anche un grande desiderio Per disegnare Questa città Del futuro Interpellare L'architetto Renzo Piano Che potrebbe Anche venire Perché Il progetto Di costruire Una città Al centro della Sardegna Che serva La Sardegna Che sia organizzata In maniera tale Da poter anche Competere Con il grande prestigio Di Cagliere Di Sassi Sarebbe per Oristano Forse la cosa più bella Che potremmo augurarci L'ultimo spazio È per l'appello al voto Perché Votare Mario Vino Votare Mario Vino Perché È una È un sindaco Preparato Un sindaco Capace Un sindaco Intelligente Un sindaco Rispettoso Un sindaco Che sa Mettere insieme Le persone Che sa ascoltare Che sa condividere Votare Mario Vino Perché ha una coalizione rinnovata Nuova Che si presenta Al di fuori Dei soliti schemi Che sono schemi Di gruppo Che perseguono Interessi personali Mentre Mario Vino E la sua coalizione Ha Soltanto Desiderio Di Promuovere Il Promuovere Il benessere Dei cittadini E Modernizzare La città Questo è La cosa importante Dico che Il fatto di essere Donna L'ha Vantaggio Nel senso Che rappresenta Un po' L'origine della vita Che rappresenta Una categoria Di persone Particolarmente Per le quali Il socialismo È particolarmente Sensibile Perché le donne Lungi Dall'essere Rispettate Sono ancora Soggette A dei sopprusi E Vedere una donna Che ha avuto la capacità Di recitare Un ruolo così importante In maniera così Intelligente Così Significativa È Un fatto molto Importante Per la città Grazie a Francesco Cabras Diamo il benvenuto Dattilio Dedoni Capogruppo Dei riformatori In consiglio regionale Riformatori Che sostengono La coalizione Di centrodestra Guidata da Andrea Luzzo Intanto Quale sarà Il contributo Del vostro partito Nel caso Di un eventuale governo Guidato da Andrea Luzzo Intanto mi piace Chiamarla Nuova Oristano La coalizione Perché Ha un significato Puntuale E preciso Quella di Fare qualcosa Di diverso Che è avvenuto Sinora E io ritengo Che non ci siano Elezioni Più difficili Per certi aspetti Ma anche Più pregnanti Significanti Quanto quelle attuali Perché Bisogna capire Che Oristano Ha perso La sua centralità La capacità Di essere Rappresentativa Di se stessa Come città E del suo territorio Come provincia Io credo Che ci sia La necessità Di riaprire Un dialogo Con la cittadinanza Che capisca Che capisca quello Che è la proiezione Per il futuro Ricercando Sviluppo E occupazione In tutte le direttrici I riformatori Su questo aspetto Possono dare Tutto quello Che è la loro capacità Di innovazione E l'abbiamo dimostrato Con più e più norme Presentate In regione Dove Effettivamente Noi abbiamo Dato Dato Una capacità Di incidere Nella modificazione Di quelli che sono I sistemi Attuali E tuttora in vigore Che certamente Non hanno dato Quella dignità Alla città E alla regione Sardegna Patrimonio immobiliare Mi riferisco in particolar modo Alla reggia giudicale Un tempo carcere Adesso in disuso Qual è l'idea dei riformatori Per questo immobile? Lei ricorderà Che abbiamo fatto I primi Come forze politiche Come abbiamo fatto Tutte come novità I primi Come forze politiche Un convegno Su quello che è L'abbandono Dell'ex carcere Nonché Signoria Di Eleonora d'Arborea Nonché Reggia Della città E del giudicato Di Oristano Quindi fulcro Punto essenziale Di quelle che sono Le esigenze culturali Ma di ripristino Di una presenza Che sia veramente Di richiamo Al turismo Che integri Il centro storico Che faccia Riaprire Una dinamica Complessiva Di quello che può essere L'affacciarsi di Oristano Alla ricerca Di un turismo diverso Alternativo Quello culturale Che ben può richiamare Molti non sanno Per esempio Che Oristano Ha tante bellezze Vicine E meno Lontane Da quelle che sono Emergenze archeologiche Proprio ai confini Del proprio territorio A quello che è Tutto il sistema Di cultura e storia Del medioevo E quindi Dell'aspetto giudicale In Sardegna Per continuare A quelle che sono Insediamenti romani Punici E quant'altro Va valorizzata Questo è Un discorso Che manca Ad Oristano E che noi Vorremmo dare Come nuova prova Di inserimento In un contesto civile Attilio De Doni Perché votare Andrea Luzzo? Andrea Luzzo Va votato Perché credo che Sia una persona Seria Capace Certamente Onesta Che Con la trasparenza Vuole cambiare Un ritmo Di convivenza Civile Che sin adesso È stato invece Appannaggio Di un sistema Di un sistema Che non ha fornito Ad Oristano Quelle che sono Le espressività Vere Di una capacità Di incidere Nel sociale Di dare occupazione E sviluppo Di creare opportunità Qui si è fatto Soltanto chiusura Basti pensare Che si è fatto Scippare La città di Oristano Quattro milioni E mezza Di euro Per l'intermodalità Cosa essenziale Lei mi insegna E credo che I cittadini Capiscano bene Che è L'intermodalità Insieme all'infrastrutturazione Parlo di porto Aeroporto Di reti Viarie Di qualunque tipo Siano la base L'essenza Del sviluppo Perché così è E può dare Certamente Questa opportunità Ad Oristano Di riprendere Dicevo Ancora una volta Favorendo quello che era Il governo amico Alla regione E il governo amico Al Parlamento Noi non abbiamo Ottenuto Quelli che erano I risultati Le necessità Le aspettative Che i cittadini Di Oristano Volevano Per cui Luzzo ha il grande compito Di innovare Di dare forza Vigore A una nuova politica Che dia ad Oristano Quella giusta dignità Che gli viene a mancare Oggi più che mai Nel territorio regionale Grazie Tilo Dedoni A voi Ancora in studio Per conoscere meglio I protagonisti Di questa tornata elettorale In vista Del ballottaggio Del 25 giugno In mia compagnia C'è Angela Loi Del Partito Sardo d'Azione Benvenuta Ciao Marianne A sostegno Della candidata sindaco Maria Ovinu Della coalizione centrosinistra Civico Sardista Intanto Quale contributo Il vostro partito Potrà dare In un eventuale governo Il contributo Che noi vorremmo Fortemente dare È quello Di un partito identitario Quindi Vogliamo partire Proprio dall'identità Anche di Oristano Quell'identità Che viene Dall'ascolto Dei cittadini Dalla Aver Studiato Anche Quelle che sono Le sue vocazioni Dalla desiderio Che L'economia Di Oristano Possa risorgere E rinascere Grazie proprio Alla sua identità I suoi monumenti La sua cultura La sua economia Legata agli antichi mistieri Il territorio Che vanno tutti Riscoperti E messi in primo piano Se noi non facciamo Questo lavoro Continueremo A confonderci Con qualunque altra città I turisti D'altronde vogliono La nostra identità E vogliono La nostra differenziazione Nel mediterraneo Oristano Può essere un inizio Un inizio di una Come potrei dire Di una propaganda Di un messaggio Che noi stiamo lanciando al mondo Noi ci siamo Noi vi offriamo La differenza Dovete venire qui Perché ciò che trovate qui Ad Oristano In Sardegna Non lo troverete Da nessuna parte Ad Oristano Quando la gente viene Quando i turisti vengono E noi stessi Dobbiamo respirare Quest'area che ci caratterizza Una città medioevale Che invece Non vuole mettere I riflettori Sui suoi monumenti Lo dobbiamo fare La sua stessa lingua Perché non parlare In Oristanese Perché non farlo È bello Non ci dobbiamo vergognare Perché non parlare Dell'artigianato Di Oristano Tutto questo Non deve essere dimenticato Perché la gente Viene qui non per andare A mangiare al McDonald's Ma viene qui Per sentire i nostri profumi I nostri odori Il Parliamo di Di enogastronomia E quindi di agricoltura Di pastorizia L'orgoglio Oristanese Noi sardisti Vogliamo tirare fuori questo Angela I sindacati Periodicamente Ce lo ricordano Oristano Fa i conti Con un altissimo tasso Di disoccupazione Soprattutto giovanile Come riportare I giovani a Oristano Come farli rimanere Come non farli partire Dobbiamo sempre parlare All'orgoglio dei giovani E dobbiamo ricordare Che c'è motivo Di essere orgogliosi Di essere oristanesi Partiamo dalla storia Di oristano E da questa storia Dobbiamo trovare La spinta Per dare lavoro Il nostro sogno È quello di aprire Una scuola civica Di sardità Non è da intendere Come una scuola Come tutte le altre Ma è quella Che dà ai giovani La possibilità Di imparare un mestiere Un mestiere nuovo Che si sta perdendo Ma voi pensate Anche il costume Il costume sardo Non è detto Che ci dobbiamo vestire Tutti di nuovo Come si vestiva un tempo Però un costume sardo Con quei ricami Con quei tessuti particolari Potremmo fare qui degli atelier Di nuovo Partire con una moda nostra Che ci caratterizzi L'enogastronomia Anche questo È cultura È tradizione Ma è anche spinta Per un nuovo lavoro Perché non dobbiamo Riscoprire le ricette tipiche Di Oristano E fare Quello che noi sappiamo fare Quello che si è sempre fatto Portarlo fuori Esportarlo E insegnare ai giovani A fare questo Perché non fare Anche Parlare Di Appunto Arte dei figoli Ma non soltanto queste Arte orafa Arte della pelle Insegnare ai giovani Come fare le guide Per il nostro territorio Come tutelarle I monumenti Devono essere aperti Certo Tutto l'anno Tutto l'anno Non creare più occasioni Per fare monumenti aperti Deve essere un monumento aperto Tutti i giorni Perché i turisti Vengono in estate Ma vengono anche in inverno E allora Perché non facciamo un'altra cosa Ad Oristano Non c'è una sagra Oristano è la regina La patria del riso Ma una sagra del riso La vogliamo fare al mostacciolo L'ultimo spazio Per l'appello al voto Perché votare Maria Ubinu? Perché ci siamo noi Perché Maria Ubinu Ci ha voluto Ci ha accolto Ci ha capito al volo Perché la sensibilità Di Maria Forse Perché ha la sensibilità Di una donna Diciamo sia quello Che consente Di aprire il comune Alla città Fino ad oggi Forse Questo ascolto Non c'è stato Noi l'abbiamo trovato In Maria Ubinu Un ascolto Un'apertura Questa apertura Che viene Non soltanto Data a noi Che facciamo parte Della coalizione Ma tutti quei progetti Belli Che sono stati presentati Che noi Sardisti Abbiamo sentito E con lei Ne abbiamo parlato Anche lei Ascoltati Progetti belli Che magari non vengono Dalla nostra coalizione Vengono da altre liste Al di fuori Noi tutto questo Lo vogliamo realizzare Questo si chiama ascolto Maria Ubinu ha capacità di ascolto Ci piace Ci appassiona L'aiuteremo con tutte le nostre forze E energie Se ci volete dare fiducia Quindi votate a Maria Perché ci siamo noi Sardisti Che vogliamo tirar fuori Tutto il nostro coraggio E orgoglio Di essere oristanesi Grazie Angela Loi Grazie a te Grazie a te Mariana Ben ritrovati Chiudiamo per questo oggi Il ciclo di interviste I rappresentanti delle liste Che sostengono I due candidati alla carica Di sindaco Andrea Luzzo e Mario Ubinu Con Gigi Mureddu Ben trovato Grazie a te Il più votato Della lista di Forza Italia Se non erro Che sostiene appunto La candidatura di Andrea Luzzo Quale sarà il contributo Del vostro partito Nell'eventuale governo Allora Il ruolo del nostro partito Sarà determinante In tutte le azioni Che dovremmo portare All'attenzione Del Consiglio Comunale Abbiamo un bel programma Folto di iniziative Che tocca tutti gli argomenti In tutte le sfere Dell'attività Sociale e cittadina Una cosa sicuramente Che faremo È quello di rendere la città Ancora più vivibile Abbiamo grossissimi problemi Abbiamo visto in campagna elettorale Che abbiamo delle frazioni Che purtroppo Sono state abbandonate Abbiamo visto delle situazioni Sia a San Quirico Sia a Sili Dove da poco Si è manifestato anche un incendio Nel campo sportivo Una cosa che Ci ha comunque Rammaricato molto Specialmente in campagna elettorale Le frazioni Le borgatte Ci sono tante cose da fare A Oristano Una cosa poi Molto importante È anche far rivivere Il centro storico Di Oristano È intendimento Se vinceremo Le elezioni Anche cercare Di portare Di nuovo Artigiani E commercianti Centro storico Adottando delle misure Di fiscalità Agevolata In maniera tale Che Vedremo Di nuovo Via dritta Il nostro centro animato Politiche sportive Oristano Potrebbe offrire tanto Abbiamo visto Negli ultimi anni Alla realizzazione Del centro federale di Sarodia Gestito però Dalla FIGC Lavori in corso Nella palazzetto La riapertura della piscina Insomma C'è tanta carne al fuoco Come sfruttarla Al meglio Ma Noi Abbiamo incontrato In questa campagna elettorale Tanti dirigenti Delle nostre società sportive Dilettantistiche Una cosa Che faremo sicuramente Un comitato permanente Che sia di riferimento Per l'amministrazione comunale E che porti All'attenzione Tutti i problemi Relativi a tutti Gli sport Come ha detto Andrea Ieri Al confronto Che si è tenuto In Piazzaglione Ora Non faremo Dei campanilismi Sporti Agevolati Più Come dire Più Amati Cercheremo Di dare Pari dignità Tutti gli sport Dal ciclismo Al nuoto Alla pallacanestro Tutti quegli sport Che vengono quasi Dimenticati Che vengono alla ribalta Ricordiamoci Anche i nostri Campioni Dal canottaggio Se andiamo a vedere Anche la sede Che Certo è grande C'è molto da fare Anche lì Questo rientrerà Comunque Un'ottica di sviluppo Come ha detto Andrea In tutta la campagna elettorale Abbiamo grandi intenzioni Per Torre Grande Con un master plan Che coordini Tutte le attività E nel contesto Comunque Della città L'ultimo spazio Per l'appello al voto Perché votare Andrea Luzzo? Andrea è soprattutto Un amico Una persona che Si vede in giro Ama la città L'ama profondamente Ha tantissimi amici Riaprirà le porte Della casa comunale A tutti i cittadini Senza distinzioni Perché Un bravo Amministratore Deve avere L'umiltà Di ascoltare Andrea L'umiltà Di ascoltare L'ha dimostrato Andando in giro Per la città Si è fermato Con tutti Anziani Disabili Ragazzi Giovani Li avevamo anche Come compagni Dell'Iste Nella coalizione Andrea Sarebbe il sindaco Di tutta Avristano Grazie a Gigi Mureddo Grazie Grazie a tutti